Paura e incertezza sul futuro di Veneto Banca, dopo che Banca Intesa è uscita allo scoperto. Occupazione abusiva, Saeed Chaibi condannato, ora chiedono le sue dimissioni. In casa i ladri non trovano nulla da rubare e così saccheggiano la dispensa. Una storia di folle e burocrazia arriva da Santa Lucia di Piave, ecco cosa accade per delle altalene. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio della marca trevigiana. Lo avete sentito dai titoli anche oggi, torniamo ad occuparci del caso delle popolari venete alla luce della scelta di Banca Intesa a San Paolo di prendersi carico proprio delle due ex popolari. A Treviso però restano ancora paura ed incertezza. Chiediamo garanzie tanto quanto le altre parti sociali in causa, altrimenti non escludiamo nulla. Siamo disposti a qualunque azione per vederci garantiti i nostri diritti. La rivolta degli azionisti, la rivolta dei piccoli soci, si scrive offerta d'intesa a San Paolo per salvare le banche venete. Si legge boccone avvelenato per le centinaia di migliaia di risparmiatori che temono il peggio e sono pronti a tutto. Un'acquisizione per la cifra simbolica di un euro per aggiudicarsi la parte buona di BPV e Veneto Banca, escludendo i crediti deteriorati, quelli ad alto rischio, le obbligazioni subordinate, nonché partecipazioni ai rapporti giuridici considerati non funzionali. Insomma, Good Bank e Bad Bank, destinata a quest'ultima essere liquidata con risorse pubbliche e non poche. Secondo gli analisti finanziari, il costo per lo Stato e dunque per i contribuenti potrebbe essere di almeno 3,5 miliardi di euro. Qua c'è un'ipotesi in cui una banca prende soltanto la carne e lascia le ossa. Questo ci fa temere che qualcuno voglia toglierci il diritto di fare causa a questa banca e di vederci riconosciuti i nostri soldi. Attacco anche i sindacati che oggi comunque, pur riconoscendo la soddisfazione per lo sblocco di una situazione nel limbo, chiedono un tavolo serio sulla questione occupazionale. Nonostante le rassicurazioni, a rischio infatti 4 mila posti totali fra le due banche. E 200 mila persone che hanno lavorato una vita e sono stati defraudati, quelli neanche una parola. C'è anche il consigliere comunale Saeed Chaibi tra i 25 attivisti del collettivo ZTL condannati per l'occupazione dell'ex Telecom. E ora sono in molti a chiederne le dimissioni. Un mese di reclusione, pena sospesa, occupazione dell'ex Telecom. Il tribunale di Treviso ha condannato 25 attivisti del collettivo ZTL, tra i quali anche il consigliere comunale di SEL, Saeed Chaibi. I fatti risalgono al 2012, quando i giovani decisero di occupare abusivamente la sede dell'ex Telecom in via Dandolo, a Treviso, per farne un centro sociale. Qualche giorno dopo il blitz della polizia che liberò lo stabile, ebbene per quella prima occupazione finirono a processo in 25. Attivisti di ZTL ora confluiti nel centro sociale Django, attivo all'ex caserma Piave, ma anche alcuni simpatizzanti che al momento dell'irruzione della polizia si trovavano dentro l'edificio alle spalle della stazione ferroviaria. Tra loro anche Saeed Chaibi, poi entrato a Palazzo di Trecento nelle file di SEL, consigliere che a tutt'oggi, in attesa del ricorso che presenteranno i suoi legali, rivendica quell'azione. Io ho fatto un'azione che era un'azione politica e sociale. Me la rivendico e lo farei ancora oggi, perché penso che gli spazi inutilizzati debbano tornare ad essere il patrimonio di tutti. E ora invece ci spostiamo a Pieve di Soligo, i ladri entrano in casa, non trovano nulla da rubare e allora scelgono di depredare addirittura la dispensa. Fallito il colpo, si sono accontentati di noci e biscotti, ma in veranda, tranquilli come se nulla fosse. Ci sarebbe da sorridere se non fosse per i danni subiti, per scuri e finestre divelte, o per l'abitazione messa completamente a soquadro, senza contare la sensazione di rabbia da parte delle vittime. Perché quello subito da una coppia di anziani, 81 anni lui, 74 lei di Pieve di Soligo, è il secondo raid in appena due mesi. Stesso bersaglio, la casa delle vacanze, in collina. Ad accorgersi della nuova intrusione, gli stessi coniugi, ieri quando assieme alla figlia, si sono recati nell'abitazione per dare una pulita in vista delle vacanze. I ladri, approfittando dell'area isolata, hanno sfondato di scure le finestre, una volta all'interno, hanno ribaltato ogni stanza alla ricerca di qualcosa da rubare. Ben poco in realtà, soprammobili, qualche oggetto di bigiotteria. Così, alla fine del magro colpo, hanno deciso di rifarsi almeno nello stomaco. Biscotti, bibite, noci, scatolette di tonno consumati sul tavolo della veranda. Due mesi fa, identica situazione. Per i coniugi, lo shock di vedere la proprietà addiolata, ancora una volta, e i residenti della zona denunciano. Gira brutta gente, ora abbiamo paura. E siamo arrivati invece al tema del nostro Tg, linea aperta di questa settimana. La provincia chiude le scuole. Dite la vostra, come sempre potete esprimere la vostra opinione inviando un messaggio ai recapiti che vedete in sovraimpressione. E ora invece ci spostiamo a Santa Lucia di Piave per raccontarvi una storia di assoluta burocrazia. Una burocrazia che non solo non facilita i comuni che si trovano a gestire tutto con sempre meno risorse e più tagli da fare, ma se è possibile riesce addirittura a peggiorare la situazione. Eh sì, possiamo ben dirlo, una vicenda che ha del paradossale. Accade a Santa Lucia di Piave. L'amministrazione comunale ha deciso di installare nei parchi pubblici delle altalene. Fin qui tutto normale, se non quello Stato ordina al sindaco di acquistare i giochi nelle aziende autorizzate, ovvero parliamo della Macagi di Cingoli a Macerata. L'assurdità è che questa ditta a sua volta si approvvigiona delle altalene dalla Toffoli Gioco, che si trova proprio a Santa Lucia di Piave, per dirla tutta, a due chilometri in linea d'aria con il municipio. Il risultato è semplice. Se comprandola direttamente avrebbe speso 380 euro, in questa maniera il costo raggiunge ben 640 euro. Eppure lo ha stabilito lo Stato e non si può fare diversamente, anche se è palese il paradosso, immediata la protesta del sindaco Riccardo Shumsky, che già in passato aveva sollevato la medesima questione. E con questo dalla Marche a Trevigiana per questa sera è davvero tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro come sempre un buon proseguimento di serata su Rete Veneta, questa sera alle 21.20. Torna infatti l'appuntamento con Focus e i Veneti schiacciati dalla crisi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.